Prima amichevole stagionale contro una formazione di pari livello per la SPAL di Mister Di Carlo che questo pomeriggio presso lo stadio Villani di Masitorello affronta il Fiorenzuola. Prima della partita si rispetta il minuto di silenzio per la scomparsa di Carlo Mazzone. SPAL che si presenta davanti a 1500 ospiti presenti sulle tribune con il nuovo acquisto del Favaro in porta, i due giovani Rao e Parravicini e i nuovi innesti Iglio, Carraro e Siligardi. Recupera alto il pallone la SPAL che muove palla con Siligardi, che vede Maestro, subito l'arrivo sulla sinistra di Rabi che può puntare una finta, poi la conclusione col Mancino, guadagno, blocca a terra, buona trama dei Biancazzurri. Ancora la SPAL con Rao, arriva la corrente Trippaldelli che prova a ripassarla al numero 75, poi Rao per l'1-0 dei Biancazzurri. Maestro va in pressione, porta parla, è il nostro numero 37 che se ne va, sulla destra vede arrivare Siligardi, 1-2, Maestro, 2-0. Splendida la giocata fra i due fantasisti Spallini. Nel secondo tempo la SPAL che riparte come aveva finito nel primo tempo sul giropalla del Fiorenzuola, buono il pressing di Parravicini che poco fuori dal limite dell'area, calcia di sinistro. La sua conclusione finisce larga dallo specchio della porta. Girandolo è di cambi nel secondo tempo con le squadre che cambiano totalmente volto rispetto agli undici iniziali, fa il suo debutto con la maglia Biancazzurra il nuovo attaccante Rosa Fio. Dorazio dalla bandierina, mette al centro, allontana la difesa del Fiorenzuola. Fiordaliso è in possesso di palla però è homo regbe che si invola verso la porta, salta anche Alfonso e va a siglare il gol del 2-1. In comprensione del difensore del portiere Spallino. Dorazio vola, guadagno e respinge la ottima conclusione del nostro numero 10. Orfei riceve sulla sinistra, può puntare sul diretto avversario, lo salta Orfei, ancora lui in possesso, viene murato Orfei, palo. Quello che potrebbe essere il tris della formazione Biancazzurra. Finisce qua, Spall batte, Fiorenzuola 2-1, buona prestazione dei ragazzi di Mister Di Carlo che mettono minuti preziosi verso l'inizio del campionato.